L'unico e signore strano alla famiglia è seduto in fondo I bambini si accomodano tutti, anche la signora Rimane solo un bambino, un lucchia, in pesi La signora al bambino, lucchia Vai andai con questo signore in unisì in fondo Dille, signore, ha detto mia mamma che se lei stringe poco a poco le gambe che ci sto anche io Vai, dille Signore, ha detto mia mamma che se lei stringe poco a poco le gambe che ci sto anche io E signore, no, no, no Dille a tua mamma che se le aveva strette le gambe e non ci viene ancora l'occovo 50 persone Grazie